Riteniamo molto positivo il fatto che la misura decontribuzione Sud sia stata prolungata fino al 31 dicembre 2023, dando così un tempo maggiore ad imprese e lavoratori rispetto a quelle che erano state le ultime proroghe e che sia stato autorizzato un incremento delle risorse previste per questo importante strumento. Così il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'On. Raffaele Fitto, in merito alla decisione della Commissione Europea di autorizzare, nel contesto del regime degli aiuti di Stato, l'estensione del sostegno. La misura prevede infatti la decontribuzione per i lavoratori delle aziende situate nelle otto regioni meno sviluppate e in transizione, con il fine di incentivare l'assunzione di giovani under 36 e di donne disoccupate. Si tratta di una misura già esistente, ma il cui prolungamento a tutto il 2023 è stato fortemente voluto dal Presidente Meloni e che è stata una delle priorità di lavoro in questo primo mese di governo da parte mia, dice Fitto, e del Ministro del Lavoro Calderone, in quanto fondamentale per la crescita e l'occupazione nel mezzogiorno e costituisce al contempo un forte sostegno alle imprese del Sud in un momento difficile della congiuntura economica. Un provvedimento richiesto dai lavoratori e dalle organizzazioni datoriali e sul quale lavoreremo sin da subito, conclude, per renderla strutturale attraverso un confronto costruttivo con la Commissione Europea.